La prassi è che noi siamo persi nella mente e nel tempo, come esseri umani, punto. Quindi accorgersi di ciò che è vero è una grazia, è un'opportunità, ma non deve essere un compito nel quale riuscire, anche perché è un compito che non finisce mai e è sempre più profondo. Per cui se io mi approccio con la mente ordinale che dice devo riuscire, riuscire a cosa? Non c'è, non c'è questo riuscire. C'è ma non c'è. È vero che sto facendo una pratica e quindi voglio sentire l'efficacia della pratica, ma in realtà non c'è. Questa è un'opportunità. Io ho l'opportunità, sto dedicando un po' di tempo per l'opportunità, cioè per il Kairos. Sto dedicando un po' di tempo per accorgermi di ciò che è. Ci metterò probabilmente tutta la vita e tante vite ad accorgermi di ciò che è. Per cui, come dire, gli sprazi del ciò che è, il sentire, i doni che questo mi dà e soprattutto io ho l'opportunità quando ho una sensazione di accorgermi delle emozioni, di accorgermi della visione. Non è un compito che devo riuscire. Se io ho questa opportunità, so che posso cogliere o no. E se quando io l'accorgo, mi accorgo che, ah, guarda, la scena spirituale, l'unità che si presenta, mi sarà sempre più facile creare le condizioni, dedicargli del tempo, tenere l'attenzione sul fatto che succede. Se mentre lo sto facendo mi pongo al problema, sto riuscendo o no. O, ancora di più, se mentre lo sto facendo mi dico, devo risolvere il mio problema che ho con il mondo che non mi vede, perdo questo tentativo di risolvere il problema. Perché invece quello che sto facendo è darmi un'opportunità di risveglio. E se io sarò più sveglio e più sveglia, sarà tutto più facile nel mio dialogo con il mondo. Quindi questa è un'opportunità, non è un compito nel quale riuscire. Anche se quanto più colgo l'opportunità, quanto più sento un senso di successo nel fare la pratica e quindi di soddisfazione. Ricordiamoci del quadrato del cerchio. Gli ottenimenti nel mondo reale non è che, come dire, è chiaro che uno è più contento quando ha gli ottenimenti e più triste quando non li ha. Ma sono un effetto collaterale della giustazione. Sono un effetto collaterale di accorgermi, per esempio, oggi stiamo focalizzandoci su questo, accorgermi che l'integrazione succede, che questo è vero, creerà le migliori condizioni per ottenere i miei risultati. Ma se io voglio utilizzare la pratica per ottenere i risultati, quello è il problema. O anche semplicemente se mi porto con me il retropensiero, ah guarda, sono riuscito o no. Anche quello è, in una certa misura, un errore epistemologico. L'ha detto bene Heidegger, l'essere è nel tempo e purtroppo il cogliere l'essere in sé è una delle robe più difficili del mondo. Però ecco, io ho un'esperienza che posso condividere ed è che, in qualche maniera, quando questa connessione intrecciata così bene, no, sui tre livelli, si manifesta, questo è istantaneo, è immediato, è zack, è un istante. Non accade quando lo cerchi, accade quando accade. Perciò che cosa succede? Come tutte le robe spontanee, no, non puoi dire a una persona sì, spontanea. Perché così facendo evidentemente impedisci esattamente quella roba lì. Quindi direi che la cosa più semplice, cioè quello, quando accade la fenomenologia è quella e tu te ne accorgi perché accade così. Però non lo puoi ricercare. Quello che puoi fare è mantenere l'apertura e la fiducia, cioè aprire. Aprire devo, vediamo cosa accade e a quel punto per lo più arriva qualcosa. Se non arriva, pazienza. Comunque tu hai tenuto aperto lo spiraglio. Questa è l'unica roba che mi sembra utile a questo punto perché in altro modo non ci si arriva. Cioè non è un percorso, la strada è solo questa, che è il non essere una strada e lasciare solo aperta la porta. Stare lì, respirare e boh, cioè una volta arriva, una volta no, però la condizione per lineare è quella. Questo mi viene da dire. Sì, aggiungerei però both ends, cioè anche avere la tecnologia giusta per questo spazio. Cioè quello lì è quello che è, quello lì è l'essenziale. Cioè tu hai detto due cose essenziali. Una è che è un attimo, succede e è già integrato, quindi non puoi metterli insieme, ma puoi fare che succeda. Due è che devi creare quello spazio di apertura, fiducia e fluidità senza aspettative perché succeda. Queste sono due cose fondamentali. Però porti conti anche alla tecnologia. Certo. Che è una tecnologia non tecnologia, che è un fare senza fare, che è una metà metodologia, ma che ha una sua precisa regolarità, che è quella che abbiamo cercato di realizzare. In modo ulteriore, il metodo è un non metodo, il metodo è al servizio di quello che hai detto tu, affrontato con quell'atteggiamento. Ed è come però se il metodo avesse, come dire, anche una sua autonomia. Nel senso che in qualche maniera nel momento in cui tu fai quello e lo fai da formichina e lo fai senza aspettativa e lo fai con un passettino dopo l'altro, vediamo cosa succede, da solo il metodo ti porta. Cioè è una specie di... è come se tu dovessi fare un atto di umiltà assoluta iniziale, proprio assoluta. Cioè io sono un nulla che adesso sta facendo questa roba che magari una parte di me dice anche che fa un po' ridere, no? Cioè ma cos'è sta cosa? Assoluta umiltà iniziale, proprio buttare via tutto, spogliarsi di tutto quello che si sa, di tutto quello che si è, di tutto quello che si è imparato, di tutta la propria identità personale, professionale, individuale, la persona in assoluto. Buttare via tutto, fare quei passettini lì piccoli da formica e poi il metodo pluff ti porta via, è una specie d'onda, è l'onda che tu navighi come se fossi un fuscellino sopra. Assolutamente sì, ricordo. Se vuoi solo dire una cosa, io mi apro, creo le condizioni e poi se qualcosa arriva bene, se no, no. Secondo me è importante anche ricordarsi che anche il niente che arriva è già qualcosa. No, io creo le condizioni, mi apro, arriva apparentemente niente e quel niente è già qualcosa. Oppure il mio aspettarmi che chiedi qualcosa è qualcosa. L'apertura è proprio un'espansione, no? Cioè un'espansione che mi, attorno a me, di qualunque cosa, no? Volevo dire questa cosa rispetto al sentire che mi risuona che, paradossalmente, rispetto a quello che è appena stato detto, invece a volte, per esempio, a me aiuta, come dire, aggiungere a questa apertura, o comunque creare le condizioni stando, per esempio, nella totale chiusura, nella totale incapacità, nel vivere totalmente quell'incapacità, quell'ignoranza e dire, vabbè, se adesso sono incapace, mi sento incapace, no? Cioè c'è questo, vorrei essere nella grazia, ma sono in questo momento divento l'incapace che sento di essere. E allora lì, almeno io sento che, quantomeno, sono autentico con quello che sento e questa cosa in qualche modo la riesco a sciogliere. No, poi magari non arrivo nella grazia, però già, come dire, riflettevo sul senso della tristezza che è molto bella la definizione di Gabriel Roth, che dice che la tristezza è un po' la cura a quando si sgretolano i sogni che abbiamo, no? E noi pensiamo che dobbiamo evitare la tristezza, in realtà la tristezza è questa grande cura, è questo grande sentimento che mi porta alla guarigione rispetto a quello che evidentemente mi sta accadendo davanti. E quella apre le porte della gioia, no? E quindi, no, mi viene da dire quanto c'è di potere in quello che pensiamo che non ce l'abbia, in qualche modo. Che è l'essere totale dove sei, la piena osservazione, l'accettazione e consapevolezza. Sì, sì, grazie, ti amo. Questo è dove sto passando, quindi sì, totalmente. Grazie a tutti.